Ancora nessuna novità a Sapri nelle indagini sulla sparizione di una statua raffigurante la Vergine dell'Immacolata, sottratta da una delle nicchie poste nei pressi del Sagrato della suggestiva chiesa neogotica di Santa Croce. I militari stanno lavorando pur possedendo pochi elementi dopo la denuncia del parroco Donnenzo Morabito. Sembra lontana la pista del furto a scopo di ricettazione. Non si esclude l'atto vandalico anche se non sono stati trovati pezzi della statua nelle vicinanze. Nell'area del complesso di Santa Croce non esistono telecamere di sorveglianza. Per ora hanno comment da parte del Vescovo della Dioce Siriteggiano Policastro in attesa di ulteriori sviluppi nelle indagini. Un altro episodio del genere ha interessato la cittadina del Golfo di Policastro ad inizio del 2017 nella notte tra il 9 ed il 10 febbraio nella chiesa parrocchiale dell'Immacolata il parroco trovò la porta danneggiata, la sagressia a soquadro, i cassetti aperti, le ante dei mobili spalancate e le carte tutte in disordine. I carabinieri in quel caso accertarono che non si trattò di furto bensì di danneggiamento. Mentre a caselle in Pittari nemmeno un mese fa furono vittime di furto le suore della Congregazione della Divina Vocazione. Gli ignoti portarono via alcune centinaia di euro. Ad occuparsi delle indagini sono i carabinieri della Compagnia di Sapri, agli ordini del capitano Michele Zitiello.